L'Unione Biceglie vince e si piazza l'ottavo posto. Gli azzurri, privi degli squalificati Moscelli e Bartoli e dell'infortunato Serri, si sbarazzano senza eccessivi patemi dei ragazzini della Vigortrani, imponendosi 9-0 con le reti di Caprioli, un doppio Gilfone, Anglani, Vitale, Ventura, ancora Anglani, Caprioli e Amoroso. Per Gino Zinfollino una vittoria tocca sana, non soltanto per la classifica che ora vede l'Unione a quota 9 punti, ma soprattutto per l'autostima del gruppo, cresciuta a dismisura dopo la vittoria infrasettimanale maturata sul campo del Bitonto, successo di Coppa che ha consentito al Biceglie di approdare in semifinale. Ma la novità più rilevante del pomeriggio ruvese arriva dal fronte tranese. Nella giornata di sabato, infatti, alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro, il cui ruolo è stato decisivo per l'esito positivo della complessa trattativa, è stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione della Vigor da parte di un'accordata di quattro imprenditori baresi, vicini al presidente della FC Bari 1908, Cosmo Giancaspro, e cappeggiata da un banchiere di Molfetta, Michele Amato, presente sulle tribune del Fausto Coppi, assieme a Costantino Baratta e a Corrado Cotta, uomo di fiducia del DS barese Sian Sogliano, l'anno scorso sulla panchina della Beretti della Fidelissantria e da questa stagione a capo del settore giovanile del Galletto, di cui è responsabile. Nel corso della prossima settimana sarà convocata l'Assemblea dei Soci per la definizione del nuovo assetto societario e contestualmente, non prima di mercoledì, ma non più tardi di venerdì, secondo le prime parole di Amato, sarà indetta una conferenza stampa per illustrare le idee della nuova dirigenza. E proprio la prossima dovrebbe essere una settimana decisiva anche sul fronte allenatore. I primi contatti tra i possibili candidati alla nuova società, infatti, sono stati già avviati. Tra i papabili alla successione del tecnico Muzio Fumai c'è Lello Sciannimanico, che si è fatto apprezzare a Bari in qualità di tecnico delle giovanili, conquistando il torneo di Viareggio nel 97, prima di guidare Sora, Fermana, Monopoli, Noicattero e Barletta tra C1 e C2.